Io ho visto... Brigadiere Perlegrino! Comandi! Comandi, commissario. Mi dia la copia della denuncia fatta dal signor Altieri. Sì, certo. Eccola qua. Bene. Allora, spero che non accadano più fatti del genere, perché in questo caso sarei costretto a metterla dentro per disturbo alla quiete pubblica. Per ora abbiamo scherzato. Andiamo. Commissario Gianzi, passo. Mi scusi tanto se la chiamo alla radio, commissario. Ma il suo cellulare è staccato. L'ho dimenticato a casa. Che cosa c'è, Pellegrino? La chiamo dalla pensione di Altieri. Lui non c'è, ma... ma c'è una ragazza, si chiama Brenda Rodriguez. È arrivata dagli Stati Uniti e dice di essere la sua fidanzata. Che devo fare? L'accompagnò lì... La compagnò lì... La compagnò lì... La compagnò lì...